Voglio accoppiare con un colpo solo tutti questi elementi in modo concentrico, accoppiare concentricamente. Allora, vado su Accoppia, uso questo, schiaccio modalità multiple di accoppiamento, vado a prendere questa faccia qui, vabbè, cancello questo perché vado a prendere questa qua che è fissa e vado a prendere tutte le altre superfici, questa, 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 questa e questa. In automatico lui prende, mi accoppia tutti questi, tutti gli elementi. Un altro modo può essere, annullo questo qua, cioè semplicemente vado, seleziono questo, con control questo, col control questo, col control, cioè li seleziono tutti tenendo premuto il control. Lascio andare, schiaccio qua e in automatico lui riconosce che voglio un accoppiamento multiple e mi mette tutto a posto lui da solo. Faccio ok e mi crea una accoppi, se voglio, mi crea questa cartella con dentro accoppiamenti multiple. Questa cartella, se torno indietro, vediamo se riesco a tornare indietro, questa cartella la posso creare, quando faccio così, lascio andare, vediamo, allora creo accoppia, accoppiamenti multiple, schiaccio questo, poi questi due e quella cartella mi si crea se schiaccio questa cartella multi accoppiamento, se non la schiaccio e gli do ok, lui non mi creerà una cartella e mi lascia tutti gli accoppiamenti singoli.